Ciao, io sono Enza, benvenuta o benvenuto e grazie per aver scelto di condividere questo momento insieme a me. Era per me importante mostrarvi un attimino qual è il setting che io ho voluto creare per questa condivisione con voi. Questo è il mio, ognuno potrà personalizzarlo come meglio crede. È importante comunque avere, è fondamentale avere alcune cose. Un quadernetto, se possibile liscio, senza righe, quadri, in maniera tale che sia utile sia per scrivere che per disegnare, colorare. Se non ce l'avete così va bene qualunque quadernetto, potete munirvi di foglie a quattro a parte. Poi prendete quello che avete a casa, dei colori, qualunque tipo di colori. Io ho preso dei colori a matita, degli acquarelli, ma ognuno può utilizzare ciò che desidera. E poi ecco questa piccola composizione dove non potevano mancare i fiori. Sono dei fiori finti, ma non importa. A me piacciono tanto i fiori veri, ma non amo reciderli, per cui ho deciso di mettere questi e le candele. Le candele perché non c'è bisogno di luce apparentemente. C'è ancora luce, ancora giorno, ma in realtà a noi la luce serve. Ci serve una luce più calda, più intima, perché quello che faremo è un piccolo viaggio dentro di noi. Un posto che molte volte rimane molto al buio. Altro elemento necessario è il telefono. Il telefono vi servirà per ascoltare gli audio o per collegarvi. E poi ecco, vi presento Donne che comprano fiori di Vanessa Manfort. Questo è il libro che mi ha ispirato. Ho incontrato questo libro casualmente anni fa ed è entrato a far parte della mia vita. Mi ha aiutato a capire tante cose di me e voglio quindi farne tesoro e condividere questo tesoro con voi. vi auguro di trovare il vostro posto giusto e di fare una bella esperienza insieme a me. Grazie.